Si conosce, si ha più paura, la paura è sempre un fenomeno negativo. Occorre che la gente si conosca nei propri usi, i costumi e che si rispettino le proprie rispettive credenze culturali. Con il presupposto fondamentale che dicevo prima della nostra Costituzione, l'elemento base, gli uomini e le donne hanno tutti uguale dignità che va a rispettare. Ecco, noi crediamo che iniziative di questo genere sia importante per questi due motivi. Un motivo storico che però parla di odio, non parla solo di 60 anni fa, è un motivo concreto e immediato. Gli uomini e le donne sul mondo, in un mondo che è sempre più piccolo, devono conoscersi nei rispettivi usi e costumi. Ecco perché è positivo, ecco perché vi ringraziamo della vostra presenza qui e ci auguriamo che tutto vada per il meglio e ci auguriamo che in futuro si possa meglio organizzare e di essere altrettanto, continuare ad essere presente. Ringrazio della vostra presenza, ringrazio anche la situazione dei combattenti che sono qui presenti, che insieme italiani e indiani rendiamo omaggio a chi è caduto per la libertà, chi è combattuto per un mondo migliore, l'impegno con cui ci rassiamo, l'impegno generale per un mondo di pace, un mondo migliore che a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti Sono lieto di unire al saluto di benvenuto dell'Assessore, il mio saluto personale come collaboratore nell'ospedale indiano e a nome anche dell'Associazione Partigiani che ho l'onore di rappresentare qui. La mia è una testimonianza, una breve testimonianza diretta. Parlando di questo incontro, la mia memoria torna indietro di 64 anni, quando io avevo 20 anni e il mondo era sconvolto dalla guerra. Era sconvolto dalla guerra in tutti i continenti e non c'è paese del mondo che non porti i segni come abbiamo qui, i segni dei lutti, della morte, della distruzione di quella che è la guerra. Il mio ricordo è questo. Il 9 novembre 1944, quando la città di Forlì fu liberata dall'esercito alleato e dalle formazioni partigiane, qui venne istituito un ospedale militare. Il 9 ospedale militare indiano era in un grande palazzo del centro della città e siccome il fronte, dopo la liberazione, si era fermato a poco più di 20 km, qui per sei mesi siamo rimasti nelle retrovie. E l'ospedale, il vostro ospedale indiano funzionava a pieno ritmo. Quali dovevano essere i saluti la mattina? Perché a seconda della religione ricordo che quando incontravo uno di voi dovevo dire Sassericali. Quando erano hindù invece dovevo dire Jaramjiki. Se erano musulmani invece Salami. Questi sono piccoli ricordi. Ricordi particolari di quei giorni, quello che posso dire, sono due figure. C'era un caporale che si chiamava Mucì, che noi ridavamo perché aveva i baffi arricciati e lui se li arricciava sempre. E camminava in un certo modo che sembrava un cammello. Noi dicevamo, è Mucì che cammina come un cammello perché tontolava. E c'era un altro, si chiamava Ciacarmali, che si era costruito un flauto con una pompa da bicicletta e suonava tutto il giorno. Ma in modo particolare, lo dicevo anche prima con un giornalista, mi ricordo che c'era una sala dove c'era un sito con il sito che suonava delle melodie bellissime e cantava. Io non entravo per rispetto perché forse quella era una sala destinata di vivere, di scegliere la loro vita e vivere in libertà e in pace con tutti. Noi rendiamo omaggio a questi giovani e dico giovani che resteranno giovani per l'eternità perché i morti non invecchiano. E noi vogliamo invece che i giovani di oggi diventino vecchi. Grazie della vostra attenzione e arrivederci al prossimo anno. Grazie della vostra attenzione. Grazie della vostra attenzione. Grazie della vostra attenzione. A breve un po' perché mi ho chiesto di parlare 20 minuti, quindi cercherò di essere qui. Innanzitutto credo che questa sia un'occasione molto importante considerando che molti Sikh come potete vedere oggi sono colorati che giravano in quegli anni. Questo appunto non è solo un ricordo perché oggi si possono di nuovo rivedere molti Sikh qua tra noi. Ci sono alcuni aspetti che sono significativi della religione Sikh che secondo me è importante dire in questo momento. Innanzitutto la religione Sikh è una religione molto aperta che predica il rispetto per l'alto, per il prossimo. Non solo il Gurdwara, cioè il luogo di culto è aperto a tutti, chiunque può entrare, chiunque senza distinzione di religione può entrare. L'alto anche della religione Sikh è quello di dedicarsi agli altri. Il vero Sikh dovrebbe devolvere una parte dei guadagni a chi ne ha bisogno, in particolare il 10% dei guadagni, ma devono anche prestare servizio con umiltà e devozione, secondo un servizio volontario che è chiamato a sepa, e alla comunità, a chi ne ha bisogno, alla comunità stessa e anche a chi ne ha bisogno al di fuori della comunità. Questo può essere prodotto in vari modi con dei servizi, ad esempio come vedete anche oggi, per preparare la cucina, per allestire, insomma, che ci ha creati così. Un terzo simbolo è...